Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. L'alta pressione subtropicale inizia a perdere colpi, notriamo i temporali al nord, situazione di instabilità che permarrà anche nei prossimi giorni. Poi nei primi giorni di agosto l'anticiclone tornerà ad essere protagonista su tutta Italia, seppur senza temperature eccezionali. Per quanto riguarda questo giovedì, una giornata complessivamente stabile, specie al mattino con cielo sereno praticamente ovunque, poi nel pomeriggio possibilità di qualche isolato temporale nei settori interni, specie nell'Aquilano però. fenomeni abbastanza rari e di breve durata, altrove cieli sereni con qualche momentaneo annuvolamento, però senza particolari conseguenze. Le temperature stazionarie tra i 32 e i 33 gradi, nei valori massimi, minime tra i 19 e i 25-26 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni